Nanana... Ah... Io c'era, quanto è stato bello! Almeno era venuto di noi, non siamo andati a scuola oggi. Ciao, Lolline e Lolline! Beh, sarete curiosi di sapere come c'è andata la serata. Allora facciamo vedere la nostra night routine. Un bacione, eh, godetevela! Dusk? Mary? Avete visto il versale? E io che ne so? E tu che stai 24 ore su 24 in cucina! Ma per favore! Anche di più! Stai zitta! Ah, mamma mia! Sì, qui tutto pronto? Dusk! Mary? Mamma! È pronta la cena! Eccoci, eccoci! Che cosa c'è da mangiare? Minestra? Oh no, basta! No, basta, mamma mia! È sempre questo, cucini, dai! Io volevo la pizza! Anche io volevo la pizza, dai! Quella lei bella, alta! Come la fai tu? La pizza la mangierete domani! Ora sei detto che vi è mangiata la minestra! Ho mangiato questo, o non ho mangiato niente! Eh, sì, papà... Eh, medic, medic, medic... Ok, mettiamo certà, vai! Sì, sì! Com'è? Buona! Dusk? Buona! Ma tu che cosa hai mangiato? Oh no, io ho già mangiato prima e ho mangiato un buonissimo hamburger con le patatine fritte! Dai! Cioè, tu hai mangiato un buonissimo hamburger con le patatine fritte e a noi ci hai dato queste schifezze? Non si dice schifo al cibo, stupida! Comunque, veramente, quello che ho mangiato io erano schifezze! Queste sono cose buone e genuine che fanno solo bene al corpo e anche alla vista e alla mente! Mmm... Sarà, io mangio! Devo ammettere che quelle carotine e quei cetrioli non erano così male! Oh, vado a lavarmi i denti! Già vai a lavarti i denti! Eh sì, Mary, dopo che ho mangiato vado sempre a lavarmi i denti! Dusk, Mary, avete finito la vostra... cena? Ma dove sono andata a finire? Dusk, Mary! Dai, è impossibile! A me ha detto così, se poi tu non ci puoi credere non ci credi! Ma dai, se era viola, è impossibile che era giallo! Ti dico che hai cambiato colore! Non è possibile! Invece sì? No, sì, no, sì, no! No, sì, no, sì, no, sì, no, sì, no, no, sì! Ah, ti ho imbrogliata! Sì, no! Oh, ti ho imbrogliata io questa volta! Vabbè, dai! Vado a prendere le mie di popocorn, questa cosa è davvero comica! Flower? Dove è la zia? Oh, vabbè... Mamma è andata un attimo fuori, dobbiamo comprare una barretta di cioccolato a Mary e non è più tornata, ma chissà dove sarà... Uffa, abbiamo finito tutti i pop-gol Redask, mamma mia, quanto mangi? No, veramente li abbiamo finiti Ieri sera guardando l'ultima serie di... Di cosa? L'ultimo episodio, veramente, volevo dire Delle fatine del bosco Ah... Scusa? E comunque ne mangiate di più tu? Scusami, mamma mia Dindo! Fammi andare ad aprire Vai tu o vado io? Vado io Ciao, Flower Oh, ciao Amanda Davvero tanto che non ci vediamo Sherry, fatti dare un abbraccio Sì Allora, pensavo che eri in America con mio fratello Oh, no, no, no Ci siamo lasciati Come? Ma sì Siamo fatte così simpatici Che poi vi siete fidanzati Sì, eravamo simpatici l'uno dell'altro Però è stato lui Mamma mia Non voleva mai fare shopping con me Eh, ci credo Mio fratello è sempre stato uno un po' sportivetto Sai Lui piaceva fare le cose moderne Andare al cinema Fare questo Fare quell'altro In palestra Correre E vedere le partite Ah, come un po' tutti i maschietti Comunque Non è questo il punto Fare shopping È sempre stato una cosa molto moderna Sempre perché non si faceva Certo Anche perché non c'erano i negozi Sopra luzzuosi, eh No, per i damigelli C'erano sempre Comunque l'ultimo viaggio che ho fatto È stato in Austria E a lui non è piaciuto Insomma Ho comprato qualche diadema Con la sua carta di credito Gliela è squagliata, vero? Oh, sì Certo che noi Siamo proprio bellissime Dai fammi entrare Voglio un po' di te Ma, ma, ragazzi Dai fammi entrare Voglio un po' di te Ma Oh, no C'è Amanda Ma ricordiamo di sopra Vieni, vieni, vieni Sì Ma perché ti sta così antipatica? Poi ti spiegherò Poi ti spiegherò Ma che casa deliziosa, Flower Già sapevo che Eri molto brava in arreda mia Grazie a tutti